Leonardo Silva Revisore Immagino che tutti voi conosciate questo gioco di carte. Uno, i più ingeni penseranno che sia soltanto un gioco dove bisogna liberarsi del proprio mazzo prima degli altri, ma chi ci ha giocato davvero sa che questa è una guerra dove finiscono le amicizie e si accendono di quei dibattiti che... vi sto a dire. Ma una delle discussioni più frequenti a questo istituto è se al più due si possa rispondere col più quattro. Non importa che cosa ci sia scritto sulle regole, nessuno le legge e tutti si fanno la propria opinione e scelgono le proprie regole del gioco. E può sembrare strano, ma anche in matematica ci sono delle opinioni. Eh sì. E vi racconto la storia. Per la prima volta nel 1908 un matematico tedesco, Ernst Zermelo, come si sa ai tedeschi piace la burocrazia e le regole, lui infatti stilò sette assiomi, ovvero sette verità fondamentali e, diciamo, indiscutibili, che dovevano fondare tutta la matematica dell'epoca e fondare un linguaggio comune per tutti. Un po' come le regole del gioco ci permettono di fare, appunto, le nostre partite, gli assiomi, tramite deduzioni logiche, ci portano a dimostrare i teoremi. Quindi fatemi fare un esempio. Per esempio, il primo assioma è l'assioma di esistenza e afferma semplicemente che esiste un insieme. Esiste, siamo sicuri, non ce lo dobbiamo porre come problema. E questo serve semplicemente ad assicurarci che la nostra teoria non si stia basando su nulla. Senza di questo è come se io vi spiegassi le regole di uno senza un mazzo con cui giocare. Divertente, ma abbastanza inutile se poi stiamo a guardarci negli occhi, no? Ebbè, forse l'assioma più interessante di questa lista è il numero 6, ovvero l'assioma di scelta. E l'enunciato è abbastanza ragionevole. Ci dice che se abbiamo degli insiemi, non vuoti, allora abbiamo una funzione che da ognuno di essi ci sceglie un elemento. Un po' come se io dividessi questo mazzo in vari mazzetti e vi chiedessi di estrarre una carta da ognuno di questi. Abbastanza intuitivo. Però, un po' come una questione di fede, alcuni matematici credono nell'assioma di scelta mentre altri lo rifiutano. E quelli che lo scelgono e quelli che lo rifiutano creano così due matematiche diverse. Due mondi paralleli, un po' come gli universi della Marvel. In un mondo senza assioma di scelta potremmo dividere un insieme in più parti di quanti siano i suoi elementi. Un po' come se io avessi un mazzo di 40 carte e lo dividessi in 60 mazzetti. Abbastanza paradossale, vero? Però anche un assioma di scelta, cioè un mondo con l'assioma di scelta, offre scenari buffi. Come il paradosso di Banaktarski. Ci dice che se noi abbiamo un pallone, tipo il nostro pallone per la spiaggia, lo potremmo spezzettare e ricomporre in due super santos uguali a quello originale. Sarebbe bellissimo, ma non ce la facciamo. Beh, in conclusione quindi vorrei invitarvi a pensarci due volte prima di dire che la matematica non è un'opinione e scegliere voi le regole del vostro gioco. Grazie. Grazie. Grazie.